Tanto mio fratello mi ha detto, mi ha detto che io assomiglio a quel Ganondorf fatto con l'intelligenza artificiale Dice che ci assomiglio per i baffi, per come sono attaccati al naso, la forma del naso e tipo la forma degli occhi Ha ragione Ce lo posso vedere ma è chiaramente un'altra cosa, già chiaramente non sono io, come on Come on